Buongiorno a tutti e a tutti. Scusate se mi ha fatto la usma o l'ordinatore. Mi ha chiamato Matteo e ho orgoglioso di presentare l'Europa, che ha la lingua parlata nella lingua orientale del nord Italia. Mi ha tagliato, mi vive in Cataluña e che mi ha indicato dell'importanza che ha le lingue regionali e regionali. L'Europa è formato diversi varianti. Un grande viviente tra le ore ma con persone differenze dell'ehec e pronunciazione. La lingua che parlo di me è poco ricongruita dall'UNESCO con patrimonio linguistico. La mia ufficiale in Italia è la zella per il amore che ha il dialetto dell'Italia. E infatti l'Italia ha perduto perché ha la mia importanza e la considero con vergogna legata dopo il passato che ha il mio senso, e il mio senso non ha parlato grezzo, crudo, mia bella di gente che le mai desmentegas. Per me è la lingua dell'emozione, che è la che ho usato sempre di quando ho chiesto e la parlo di me, della mettero, della mesè. All'inizio è che la parla ora, la parla tra le famiglie, tra gli amici, però in dei paesi le persone le parla più in questa lingua, le parla tutte in Italia. perché la parla è che la mentalità che l'ha un po' fatta in Brut. L'ha cambiato un po' la mentalità della gente. Ecco. Ho il problema principale della nuova lingua a mio pari, è l'escrittura. Perché esiste mille ortografie, ma con che mi è un organo ufficiale della lingua, e che mi è foda di scrivere, e che mi è strano. Per me è strano, ma con l'escorso dell'importanza della mia cultura, dopo che mi sono trovato in una società che ha la valore. E ho capito che l'Europa è formata per la sua natura, adottata e culture. E tutto è fondamentale per una società nuova, diversa, e che fuori della sua cultura è pronta a comunicare e a capire le altre. L'è perché voi di partecipare al progetto K? Perchè penso che la tutela delle lingue pesene, e delle loro culture, la ha è fondamentale, al dedanque, e... Ando in modo che il viaggio, e che il vif, entra a mille delle culture delle erache. E che... Alga deve aver più che mai delle altre tueche. Perchè ricordo me che... ... ha detto che deve aver internazionale, ma aver internazionale, per me è di perdere la tua cultura. ma aver conapevole della tua cultura e chi unividila col mondo. E poi basta, chiesto lecchere chiuderebbe. Anverte. 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 Anverte.